buon mercoledì a tutti oggi è il 31 maggio sono le 11 05 finalmente ritorniamo a parlare di bitcoin con analisi ciclica evoluta analisi evoluta a che punto siamo siamo al punto che abbiamo preso l'incocciata perché perché avevo segnalato ieri alle 16 17 che si poteva iniziare a valutare un long perché avevamo un secondo t meno 3 inverso vincolato a rialzo eravamo a 27.863 che cosa è successo è successo che qui stiamo ancora cercando di capire che tipo di raccordo può esserci stato perché in realtà il vincolo non sussisteva e piano piano siamo iniziati abbiamo iniziato a scendere avevo però segnalato anche che dato che ci avvicinavamo tanto alla 24esima barra di iniziare a tenere d'occhio questo massimo che se già in 22esima appunto non ci fosse stato un miglioramento eventualmente di chiudere in perdita o a pari o dove si era finiti fortunatamente non ci siamo presi questa stangata in faccia perché questa sarebbe stata una bella stangata e grazie a questo raccordo che per ora è l'unica cosa che mi viene in mente che ci possa essere ma sto ancora ragionando su questa parte abbiamo continuato a scendere dovevo valutare forse ancora un pochino meglio il discorso della partenza di un nuovo t inverso dai massimi che cosa è successo siamo arrivati al 50 per cento di fibonacci quindi dopo questa salita siamo scesi del 50 per cento in molto meno tempo ovviamente come succede e ci siamo fermati qui sulla media mobile a 200 periodi chi non utilizza gli strumenti tipici dell'analisi tecnica continua a dire che non funzionano chi invece fa training da tanto tempo sa che ovviamente sono ottimi non basta l'analisi tecnica meglio utilizzare anche l'analisi dei volumi can ho messo un bel grafico nel gruppo premium che non farò vedere ovviamente in pubblico qui con una bella squadratura di can e a questo punto che cosa facciamo la prima cosa il punto della situazione qui da qui è partito un nuovo b settimanale abbiamo un punto t meno 3 che non può essersi chiuso qua abbiamo una possibilità di chiusura molto semplice qui o attenzione anche qui ma in realtà però qui è più consono e se dovessimo rispettare il vincolo del sesto t meno 3 potremmo andare a cercare come minimo dalla ventiquattresima barra in poi un minimo inferiore ancora ai 27 mila e 1 dollari allora primo allarme 27 mila e dollari 27 mila 1 ok target centrato per la discesa ok vedendo queste stranezze ok queste cose che non mi piacciono per andare a prendermi pochi punti mi metto l'alarme solo per sapere da quando si può eventualmente rimbalzare rimbalzare perché perché il sesto t meno 3 non ha raggiunto le 24 barre minime di durata e solo 23 ricordiamoci che però non sono soltanto 24 le barre di durata minima ma poi ci sono le 32 che ci porterebbero ci proietterebbero alle 17 45 di questo pomeriggio e si può arrivare fino a 44 ovvero le 2 45 di questa mattina nella realtà dei fatti ricordiamoci anche che se riusciremo a fare una spike e ripartire tutto bene non perderemo per troppo tempo la media mobile a 200 periodi che fa da supporto ok se vorranno fare la classica cosa che ormai conosciamo vero un raccordo non un ciclo completo di rispetto a un sesto t meno 3 potranno semplicemente rimanere appiccicati alla a questa media mobile e rimbalzare facendo partire o un settimo t meno 3 con il rischio che si vada a vincolare di nuovo il basso ecco perché serve di nuovo questo questo raccordo questo allarme ma se volessero far partire un nuovo t meno uno perché il raccordo sarebbe tra un t meno uno un t meno uno il discorso che da qui dovrebbe partire un rimbalzo più corpo più corposo riassumendo o si scende qui sotto per chiudere al sesto t meno 3 e poi si proverà fare un rimbalzo soprattutto se riprenderemo la media mobile a 200 periodi in blu oppure se invece sarà raccordo avremo una spinta a rialzo più forte ovviamente avendo con un allarme mettiamo anche il secondo allarme qui a 27.239 27 239 perché in caso avessimo una violazione rialzo violazione a rialzo ok ragioneremo della partenza possibile di un nuovo t meno uno con più spinta a salire ma attenzione abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del primo t settimanale da qui a qui la risposta è ovvia in questo momento sui t meno 3 no ce l'abbiamo sui cicli giornalieri sulle candele giornaliere vi avevo detto che è un anteprima ok appena scatterà un allarme valuterò se ha senso fare il prossimo video ma volevo comunque tenervi aggiornati e regalarvi ancora un'altra analisi assolutamente professionale come vedete in modo da continuare un discorso anche se a livello gratuito per tutti vi ringrazio per il vostro tempo se l'analisi vi è piaciuto a mettete un bel like e state sintonizzati su questo canale arrivederci